buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad una ad un signore che mi parla del padre che è paralizzato per la parte destra anche per la parte sinistra ultimamente non riesce a mangiare non riesce a deglutire e gli stanno facendo della fisioterapia il signore ha provato un po tutto di più senza risultati e mi chiede se se è possibile con l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola aiutare suo padre da questa per questa situazione perché la medicina tradizionale purtroppo non ha nulla al momento ok soltanto della fisioterapia eccetera eccetera io ho detto di sì naturalmente perché mio padre l'ho salvato con lo stesso sistema nel 2008 ed è vissuto altri dieci anni in ottima salute con il bastone zoppicando però gli era tornata la voglia di ridere di sorridere di camminare di cercare la moglie di scherzare con gli amici con i figli e compagnia bella per cui funziona mio padre era caduto in una depressione cronica per un anno e mezzo o due stava nel letto con pieghi di decupido in tutto il corpo non parlava non mangiava non bisognava sempre imboccarlo era veramente aspettavo soltanto di partire per l'altilà con il metodo dcs di ipnosi dc severa professionale con la v maiuscola di los angeles baby hills con la dottoressa rina brunini in 30 minuti su skype mio padre si è alzato e ha camminato di nuovo poi tutto il sistema audio mp3 dcs sul suo comodino seguendo le istruzioni alla letra più sessioni con il sottoscritto con la dottoressa online nel 2008 online adesso tutti fanno gli online gli online ma all'epoca non esisteva l'online almeno nel campo dell'ipnosi mio padre è vissuto in ottima forma continuando naturalmente a prendere liquido anticoagulante perché una cosa non esclude l'altra per cui tu se hai un problema del genere con uno dei tuoi cari bene e lei provate tutte zero risultati prova inizia anche da un solo audio mp3 dcs anche per fargli venire magari voglia di fare fisioterapia perché no perché ti dà tanta carica tanta voglia il miracolo lo fa l'appropriamento che i fammi tutte le domande del caso di risponderò gratis compatibilmente mi tempi mi impegno eppure scaricate il libro su amazon cambia la vita in 30 notti ti spiego un po un piccolo pezzo della mia vita oppure mi scrivi un email e oppure puoi provare un audio mp3 dcs che è gestito dalla mia associazione ipnosi associati lo seggio sbevini hills a cui io ho ceduto tutti i miei diritti aspetto due buone nuove visita il mio sito internet www.iprologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesto dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che può cambiare la vita e seguimi anche sui altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesto dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao